Terribile incidente nella serata di ieri, un ragazzo è stato portato in ospedale d'urgenza con un'ambulanza del 118 ed ora le sue condizioni sono critiche. L'impatto è avvenuto ancora una volta nel Costatese, zona che negli ultimi mesi è stata purtroppo teatro di incidenti anche di grave entità. Il ragazzo è ricoverato in rianimazione, attualmente in prognosi riservata, per le ferite riportate nello scontro tra il suo scooter ed un'auto. Avvenuto ieri sera poco dopo le 21.30 in via Cesone a Lessona. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio della polizia stradale e nessuna ferita per il conducente dell'auto, una Volkswagen Golf. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni del giovane che a bordo della sua due ruote ha avuto la peggio. Dicevamo in apertura del servizio che purtroppo l'ennesimo impatto grave che si registra nel biellese orientale. Ma anche se si attendono gli esiti dei primi rilevamenti effettuati dalla stradale è già certo che non vi sono similitudini tra tutti gli incidenti dell'ultimo periodo.